Ecco qui un anno dopo un audiogramma di controllo. Qui vedete la prova della capacità uditiva su entrambe le orecchie di una donna che per 32 anni è stata sorda e anche qui non posso spiegarvi questa guarigione dal punto di vista medico. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Nel 1992 viene creato il gruppo specialistico medico scientifico MWF nell'ambito del Circolo degli Amici di Bruno Gröning. Il Circolo degli Amici di Bruno Gröning è una delle più grandi organizzazioni mondiali per la guarigione sulla via spirituale. Si occupa di un fenomeno che già negli anni 50 aveva destato scalpore. Bruno Gröning era una delle personalità più note nella storia tedesca del dopoguerra. Nel 49 decine di migliaia di persone accorrevano in quei luoghi dove lui si trovava. Accaddero innumerevoli guarigioni. Paralitici, cecchi e muti guarirono. Da tutto il mondo accorrevano i cercatori di aiuto. Si videro scene che nei nostri tempi non si erano mai viste. Ancora oggi i testimoni dell'epoca hanno le lacrime agli occhi quando raccontano quegli avvenimenti. E la cosa più stupefacente è che anche oggi avvengono le stesse guarigioni spettacolari di allora. Vedete qui l'audiogramma di una donna di allora 32 anni che dalla nascita era affetta da assurdità ad entrambe le orecchie. La causa fu un trauma alla nascita, una nascita difficile in cui si dovette usare il forcipe. A causa di una carenza di ossigeno, ampie parti dell'orecchio interno vennero danneggiate. E qui potete vedere il risultato di una sordità di alto livello su entrambe le orecchie. Vedete che già con 2000 Hz le curve cadono rapidamente perché le frequenze più alte non possono essere percepite. Per cui vengono tagliate ampie parti della cosiddetta risposta di frequenza che si trova qui in questo segmento. Con questa forma di sordità non esistono possibilità di guarigione. Dopo quattro anni successe qualcosa di insolito. Ci fu un forte dolore prima all'orecchio destro. Quando dopo alcune ore questo fenomeno si attenuò, poté di nuovo sentire normalmente da quell'orecchio. E qui potete vedere il nuovo audiogramma di controllo. Solo nelle frequenze più alte si nota una leggera riduzione della capacità uditiva. Dopo quattro settimane si verificò lo stesso fenomeno sull'altro orecchio. Anche qui, dopo una riduzione del dolore, tornò l'udito. Come vedete, in questo lasso di tempo, l'orecchio destro si è completamente normalizzato. Solo sull'orecchio sinistro si ha una riduzione minima della capacità uditiva di 8000 Hz. Un audiogramma di controllo un anno dopo. Potete vedere che la signora, che per 32 anni non poteva udire, sente normalmente su entrambe le orecchie. E anche qui non posso spiegare questa guarigione dal punto di vista medico. E ora, un audiogramma di controllo un anno dopo. Voi vedete una buonasera, normale, una donna che non poteva udire. E anche qui non posso dire questa cura. Dal 1992, l'interesse per le guarigioni che avvenivano nel circolo degli amici di Bruno Gröning da parte dei medici è aumentato sempre di più. Nel frattempo, l'MWF è diventata un'organizzazione di specialisti a livello mondiale. A metà del 2003 ne facevano parte 6.000 medici e naturopati provenienti da oltre 60 paesi. Come tutti gli aiutanti del circolo degli amici di Bruno Gröning, anche i medici dell'MWF lavorano su base volontaria nel loro tempo libero. Si occupano soprattutto di conferenze informative pubbliche, della verifica e della documentazione di guarigioni. Dobbiamo verificare la correttezza, la plausibilità delle testimonianze di guarigione e verificare se queste guarigioni siano eventualmente spiegabili secondo la medicina, senza che vi sia stato un intervento miracoloso. Dobbiamo controllare se le circostanze descritti dal guarito hanno una loro coerenza e se i nomi dei farmaci corrispondono al tipo di malattia, eccetera, eccetera. Mi arriva la testimonianza e pongo delle domande. Se vedo che qualcosa non quadra nella tempistica, allora pongo delle domande. Faccio domande su ciò che mi salta all'occhio. Poi affido tutto al nostro medico della regione, che controlla secondo le sue modalità. Nel circolo di lavoro la testimonianza viene sottoposta al medico o ai medici presenti. Il medico riceve la documentazione. La documentazione poi torna a me. Raccolgo tutto. Raccolgo tutti i referti e li allego alla testimonianza di successo. È molto bello quando l'amico va di nuovo dal medico per farsi attestare la guarigione. Va di nuovo dal medico e si fa controllare. Riceve i referti che poi ci invia. Abbiamo quindi la documentazione sulla malattia e poi la documentazione sulla liberazione dalla malattia. E questo da parte di medici indipendenti al di fuori dell'MVF. Ci impegniamo molto per documentare tutto in maniera molto chiara. Nel richiedere più referti possibili agli ospedali, ai medici specialisti, agli enti previdenziali e così via. E per attenerci il più possibile ai fatti concreti, cerchiamo di ottenere documentazioni come ad esempio le radiografie, per poter dimostrare che è avvenuto qualcosa di assolutamente inspiegabile. Un'altra cosa è un'esercizionale. Circa cinque anni fa andai dal medico per forti dolori alla schiena. Avevo dolori a tutte le articolazioni e alle ossa. Durante il lavoro crollavo spesso. Era molto brutto. Il mio dottore mi mandò a misurare la consistenza delle ossa. Il risultato fu, cara signora Fischi, Le sue ossa sono messe molto male. Lei soffre di osteoporosi in stato avanzato. Posso prescriverle solo del calcio. Questa malattia è inguaribile. Presi il calcium forte, che mi causò protuberanze ossee ai piedi, altrettanto dolorose. Potevo solo camminare con scarpe aperte e a volte non arrivavo neanche alla mia cassetta delle lettere. L'osteoporosi è una cruce per i medici, naturalmente anche per i pazienti. È una malattia inguaribile e nel migliore dei casi si può ridurre gli effetti con dei preparati al fuoro, con degli estrogeni. Come avete appena sentito, vi era dell'estrogeno nei preparati, che provocò alla signora Fischi una trombosi e non poteva più prenderlo. Non tollerava più il calcio e quindi non rimaneva altro che bere latte, ma anche questo non aiutava. Il valore indicativo del calcio è determinato dai tre valori di consistenza delle vertebre lombari, una, due e tre. Il valore del calcio della signora era più basso di una unità rispetto allo standard della sua classe di età. Nel 1995 l'osteoporosi era ulteriormente peggiorata e lo vediamo qua dal referto. Il valore del calcio delle lombari corrisponde a 51, mentre quello normale è 80. Anche questo referto dimostra chiaramente l'osteoporosi. In questo stato trovai il circolo degli amici di Bruno Gröning. Recepivo quella forza e dopo alcuni mesi stavo meglio. Le protuberanze ossee sparirono e notai che qualcosa stava accadendo. C'era qualcosa di particolare in questa forza. La mia depressione migliorò. Le mie paure svanirono. Mi tornò la speranza. Potevo camminare sempre meglio e tutto migliorò. Dopo un certo periodo potei tornare al mio lavoro. Oggi trascorro di nuovo 12 ore in negozio. Sto bene. Sto oggi ancora 12 ore in negozio. Mi va bene. Lei ha fatto alcuni mesi di Einstellen. Ecco, Einstellen chiamiamo noi la ricezione di questa forza. Come quando si sintonizza un apparecchio radio su una stazione così noi ci sintonizziamo con questo Heilstrom. Dopo alcuni mesi notò che i dolori erano diminuiti che i dolori alla schiena si riducevano e che le protuberanze ossee erano sparite. Nel 1998 andò ad un controllo. Il valore di 49 mg di calcio per millilitro di osso era un pessimo risultato ed era sconcertante. Noi qua ci aspettavamo un miglioramento. Spesso corrisponde alla documentazione il fatto che i pazienti percepiscono una guarigione o un miglioramento. I sintomi spariscono, si sentono sani, pieni di energia, ma i referti come radiografie o tomografie o qui, come vedete, nella osteodensitometria sono negativi come prima. Nel 1999, cioè un anno e mezzo dopo la guarigione, abbiamo rilevato sorprendentemente un valore di 80 mg di calcio nelle vertebre lombari. Si tratta di un valore normale per l'età della paziente. Sono valori normali considerate l'età della signora Fischer intorno alla fine dei 60 anni. Pertanto, primo, lei non ha dolori. Secondo, ha valori che dal punto di vista clinico sono completamente normali. Pertanto, la possiamo considerare sana. Bruno Gröning ha sempre sottolineato che non era lui a guarire, ma Dio, tramite la forza divina che lui chiamava High Strom. Gröning si sentiva chiamato ad informare gli uomini. Insegnava ai suoi ascoltatori come assumere consapevolmente la forza divina e percepirla nel proprio corpo. Nel suo agire non c'era alcun metodo e rifiutava di essere definito dottore dei miracoli. Per lui le guarigioni erano un processo del tutto naturale. Non succede altro che il ritornare dell'uomo nell'ordine divino. Ogni volta sottolineava che Dio è il più grande medico. Non esiste nulla di inguaribile. Dall'età di 12 anni avevo problemi alla schiena. Il medico diagnosticò il morbo di Scheuermann. Più tardi quando iniziai la formazione da infermiera questo male peggiorò. Provai varie terapie la chiropratica la tecnica Alexander che mi aiutarono un po' ma non del tutto. Continuai a prendere molti farmaci. Fu un periodo molto difficile. Poi dovetti fermarmi con il lavoro perché non ce la facevo più. Dopo un anno provai a ricominciare. Dirigevo un istituto di cura per anziani. resistetti cinque anni con molti dolori e molti farmaci. Dopo cinque anni non ce la feci più. Dovetti smettere. Quando ero proprio a terra e potevo quasi solo rimanere sdraiata senti parlare di Bruno Gröning. per caso una persona me ne parlò. Andai all'introduzione. Ci sintonizziamo sullo Heilstrom. Improvvisamente avvertì un formicolio in tutto il corpo e poi forti dolori alla schiena come non li avevo mai avuti. Sarei voluta andare via poi pensai no ora rimani seduta non puoi uscire davanti a tutte queste persone. Rimasi seduta e per cinque minuti ebbi dolori che quasi non riuscivo a sopportare. Poi iniziarono piano piano a diminuire. Sulla via di ritorno a casa percepì che non avevo più dolori alla schiena. Dissi al mio compagno è strano non ho più dolori alla schiena. Lui mi rispose sei sicura? Sì non sento più nulla sto bene. È come se avessi preso farmaci molto forti. Non riuscivo a crederci e arrivai a casa. Per tutta la notte ero sveglissima non dormii. Una settimana dopo durante la doccia avvertii di nuovo i dolori. Avevo fatto una torsione e avevo di nuovo fortissimi dolori. Il mio primo pensiero fu ecco ora hai di nuovo i dolori. Il secondo pensiero fu no è una reggelung misi del ghiaccio sulla schiena. Feci Einstein per tutto il giorno. La sera i dolori erano spariti e da allora non sono più ricomparsi. Erano spariti ora mi sento come rinata. Ha mai sentito che nel circolo degli amici venga sconsigliato in qualche modo di andare dal medico o di assumere farmaci? No al contrario è importante che si vada dal dottore lì si ha un interlocutore in campo medico lì vengono effettuati controlli e fatte diagnosi e si è coinvolte in queste logiche mentre nel circolo degli amici si riceve la forza per uscire dai problemi. non mi è mai capitato né durante le ore di comunità a cui ho partecipato né ai convegni né altrove non si sconsiglia di prendere farmaci o di andare dal medico al contrario se qualcuno pensa di aver ricevuto una guarigione viene addirittura pregato di farsi controllare ognuno deve andare dal suo medico e proseguire le cure con i farmaci non mi è mai capitato in questi cinque anni di frequentazione del circolo degli amici di Bruno Gröning qualcuno sconsigliasse queste cose ha mai osservato se nel circolo degli amici di Bruno Gröning si sconsiglia di andare dal medico o di assumere farmaci? no, non mi è mai capitato nel circolo c'è molto impegno affinché ciò non accada ognuno deve poter decidere per sé questa guarigione sulla via spirituale è qualcosa di simile al training autogeno? oppure la si può spiegare con l'ipnosi la suggestione o l'effetto placebo? so che Bruno Gröning si è sempre rifiutato di usare l'ipnosi diceva che non si doveva utilizzarla l'insegnamento di Bruno Gröning non ha nulla a che fare né con l'ipnosi né con la suggestione lo si può vedere dal fatto che guariscono anche animali bambini o persone che non sapevano nulla dell'insegnamento se qualcuno non ne sa nulla non gli si può suggerire nulla e nonostante ciò queste persone guariscono aiuti per terzi avvengono in modo abbastanza frequente nel corso degli anni ho potuto più volte convincermi che qui avvengono delle vere guarigioni guarigioni inspiegabili dalla medicina e ho potuto convincermi che questo Eilström esiste e gli effetti di questo Eilström sono presenti nelle guarigioni pertanto gli ambiti della suggestione dell'ipnosi e quant'altro a mio parere si trovano parecchi gradini inferiori mellere stufe da drunter gelegen penso che si possano escludere suggestione autosuggestione defletto placebo soprattutto quando si osservano le guarigioni di animali abbiamo avuto guarigioni di neonati non sapevamo cosa succedeva i genitori o gli amici hanno preso la forza per i neonati suggestione autosuggestione si possano completamente escludere si sono pittrice ho studiato a Vienna e il mio lavoro mi dà tanta gioia è stato un percorso lungo fino al successo per riuscire ad essere inserita in tutti gli annuari di arte internazionali ho fatto molte mostre in patria e all'estero in America Canada eccetera ho realizzato grandi dipinti su un muro con architetti nel 1993 mi venne un'allergia ai colori era così forte che la dottoressa mi disse che non avrei più potuto entrare in contatto con i colori per me fu uno shock perché l'arte è la mia gioia è la mia missione di vita in un articolo su un giornale lessi di Bruno Gröning e dissi a mio marito proviamoci vediamo com'è ad Innsbruck c'è una comunità e se non funziona non abbiamo perso nulla ebbi subito una buona impressione dopo feci Einstellen intensamente e frequentai le ore di comunità sei mesi dopo ebbi l'impulso di tornare a dipingere lavoravo ad opere di grandi dimensioni per una mostra in Svizzera non avevo più nulla era meraviglioso potevo di nuovo lavorare con tutti i colori che prima mi erano vietati sono molto grata come medico lei vede un conflitto tra la medicina allopatica e la guarigione per via spirituale? personalmente non vedo alcun conflitto sarei felice se venissero in contatto che i medici riconoscessero questo tipo di guarigione e la utilizzassero io sono dell'opinione che medicina ufficiale e guarigione per via spirituale non interferiscono tra loro sono complementari anche se alcuni medici non ci credono pensano che solo la medicina allopatica possa aiutare il malato e che la guarigione per via spirituale non sia possibile io non sono assolutamente di questa idea perché penso che l'una possa aiutare l'altra a volte quando il malato non ha più fiducia nella medicina allopatica riceve più aiuto dalla guarigione per via spirituale che dalla medicina tradizionale la mia opinione personale come scienziato è che una non disturba l'altra se le usate correttamente una aiuta l'altra no io ancora non posso documentare questi casi come viene fatto ora ad ogni modo ho visto dei risultati positivi realizzati grazie a questa via finora c'è stato un solo caso che ho potuto documentare una giovane donna con cui iniziai a lavorare quando tornai a casa dopo una conferenza aveva una malattia in stadio molto avanzato un cancro alle ovaie molto diffuso ora non ci sono più tracce della malattia ed è un caso eclatante di cui si dovrebbe parlare ho fatto molto buono è appassionante raccogliere queste informazioni è un compito grande importante per questo sono molto interessato a ciò che fa il gruppo specialistico medico-scientifico circa due anni fa partecipai ad un congresso internazionale di medicina alternativa a Colombo nello Sri Lanka e tenne una conferenza su igiene e medicina preventiva al congresso parteciparono specialisti di molti paesi lì conobbi Mattias Camp e Grethe Heusler tramite loro appresi della guarigione sulla via spirituale e dello Heilstrom dopo l'incontro ero molto interessato a sapere come lavora il circolo degli amici ero soprattutto interessato all'attività del gruppo specialistico medico-scientifico così partecipai a due congressi in Germania secondo me il lavoro dei medici del gruppo specialistico medico-scientifico è molto efficace l'insegnamento di Bruno Gröning ha un ruolo importante nella mia vita anche in quella professionale dopo aver ricevuto una guarigione divenne io stesso membro del gruppo specialistico medico-scientifico ebbe così la possibilità di raccontare le guarigioni per via spirituale di diverse persone dei diversi paesi della terra negli ultimi anni sono stato in dieci paesi e ho tenuto conferenze informative sull'insegnamento di Bruno Gröning ho visto che belle cose accadono qui quali guarigioni quali aiuti ho avuto anche nella mia vita e avevo semplicemente il desiderio voglio aiutare dopo un anno mi è stato chiesto se volevo tenere conferenze informative e così ho iniziato prima in Germania poi oltre i viaggi di Venero più lunghi sono stati già due volte a congressi medici in diversi paesi dell'Asia sudorientale ho fatto l'esperienza che le persone aspettano di poter integrare nella loro vita in un insegnamento come questo a causa della crescente attività di conferenze internazionali sempre più persone si interessano a Bruno Gröning e al suo insegnamento gli amici si incontrano nelle comunità locali che nel frattempo sono sorte in tutti i continenti in cui si trovano persone delle più grandi religioni medici cercatori di aiuto o persone interessate qui tutti possono convincersi della possibilità della guarigione sulla via spirituale attraverso l'insegnamento di Bruno Gröning l'appartenenza al circolo degli amici di Bruno Gröning è indipendente da legami con religioni o movimenti religiosi non ci sono vincoli finanziari o legali anche i medici dell'MWF svolgono le loro attività di conferenzieri e di documentare le guarigioni senza compenso e nel loro tempo libero hanno un solo obiettivo aiutare le persone di hanno solo un Ziel le persone di aiutare le persone che aiutare le persone di aiutare le persone di aiutare le persone Grazie a tutti Grazie a tutti